Salve a tutti e benvenuti a Regione del Sardo. Oggi, ci sono tutti i giorni e ci sono i commenti che incrociano i suoi edifici. Se usare lo che stiamo rendendo, in grossa e poi non sognare su pezzi e boi. Ma come tu deve scrivere pezzi e boi? Fai a dubbi, di ogni modo? Un'altra maniera sbagliata, davvero. Poi, di oggi. Questo è sbagliato a me, che come è il gusto benissimo di pezza e boi, non pezza di boi. Chi deve scrivere o scrivere o di aici o di aici, o di aici, se regola grana e custa, quando non uso bui caso di alcuna cosa, dovrebbe uso sempre sinai. Dunque, in noi, non so se ho soppoghendi due lettera, se ho soppoghendi sa a devezza e sa di dedè. Dunque, dopo ogni una litta accanto a questa zetta e una litta accanto a questa e, aici se ho soppoghendi due lettera. E custa essi a maniera giusta. In noi è sbagliato, che in noi non se ne rendi chi soppoghendi cosa. Dunque, custa è, non è sti sa e dedè, ma è a cappio. E dunque, se sbagliato, lavai. In quattro, fai davvero, custo, scritto mali. Custo ha sbagliato. Com'è sbagliato il gusto? Custo, che custa non è sti una e, è sti una dè. Dunque, sa, dè pu scriri di aici. O, procraru di aici. Pizzo, de, pizzerra. 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 L'ascendio si incurizza di ora in un savio e da ad ascetti. C'è questo non è uno di due κι, pizzerra, ma pizza e zerra. Questo è il caso della moneta sintattica. Il nostro tempo di incruzione. incrociare la provincia di sabbia, noi scriviamo su, subento, però noi pronunciamo su, subento, fai di muro ad uscirci di aici, però devo non consigliare, che chiunque non conosce di bene il suo sardo e lì, tipo questa prima volta, questo fu e tu non rinascite a comprendere il te, andata a cercare in uno dizionario, ento e non da gattata, dunque, ad esempio, a scrivere subento, parola legge su ento, accettato, esti possa domo, che legge in dito, besi di saomu, e chi tu vuole uscire, ma tu non rinascite il nostro consiglio, besi di saomu. Devo e malassai questa maniera a descrivere in questa poesia o in questo conto su un po' gente che ci vuole uscire e ci vuole uscire. Devo e malassai questa maniera a comprenderli e potrai spiegare, ma ci vuole uscire questa maniera intera di aici. Poi è tutto. Asibiri sabottagheniti. Chiedenesi, dudasi o preguntasi a pizzi delle lezioni si chiese su vendi, fai da si iscrivi in subito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.